L'immagine suggestiva che ti fa sorridere dei giudici in divisa che fraudono al dulce. Però quando Armando ha concluso dicendo ma questa era l'idea dell'unità del potere, dell'unicità del potere, se noi vogliamo avere speranze per il futuro dovremmo forse brevemente uscire anche dalla considerazione del solo rapporto con la magistratura. Perché questa unitarietà oscena del potere ha altre manifestazioni in questo momento, questo non possiamo nascondere. Un rapporto malato come quello che si è stabilito tra il primo ministro e il Parlamento non c'è stato dopo lo fascismo. Un Parlamento così soggetto, fatto di persone individualmente disegnate dai partiti, questo è il sistema elettorale, ma nel caso del partito di governo si sa questo, individualmente scelti dal Presidente del Consiglio. E' un'altra espressione della unicità pietrificata del potere, cioè la differenza tra esecutivo e Parlamento, che è il fondamento della democrazia, il primo controllo su governo è quello del Parlamento. Questa distinzione si sta cancellando. Quella rispetto all'amministratore, l'abbiamo detto, si vuole cancellare. Giudici sempre più soggetti, Consiglio superiore per il PM, azione disciplinare feroce, organo disciplinare ad hoc, azione civile che intimidisca. Anche questa sta sbiadendo. Non solo. La distinzione tra l'esecutivo e il quarto potere, la stampa. Quanto ha in mano della stampa? Chi governa? Quanto ha in mano, cosa che non si sa, della pubblicità sulla quale la stampa vive? Moltissimo, pubblicità agli altri societari. Quanto ha in mano della televisione propria e quanto ha in mano delle televisioni pubbliche. Allora questa, vedete che diventa davvero, non credo un'immagine drammatica, quella che ho dato al principio, salvo sull'oro di un abisso. Si sta affermando una concessione unitaria del potere che in condizioni storiche diverse, certamente, però assomiglia all'esperienza che abbiamo passato con il ventennio fascista. C'è un potere monolitico che non accetta dialettica, non accetta critica, non accetta sistemi di contorno. Questa è una prima osservazione che faccio, perché se vogliamo avere speranza, bisogna che abbiamo anche presente con lucidità la gravità del quadro. Secondo aspetto, fatti di questi giorni, P3, P4, Bisignani, sarà quel che sarà, vedremo il risultato. Quello che è emerso è certamente che esistono reti di potere di fatto, come la mafia del resto per altri aspetti, completamente diverso, ma reti di potere di fatto che si sovrappongono al potere di diritto, oppure che lo condizionano, oppure che lo inquinano in nome di quello che è l'opposto della democrazia. Nessun controllo dell'opinione pubblica, nessun controllo degli orgoli democratici, occultamente rispetto ai mezzi di informazione. Terza domanda che faccio, lo dico molto pacatamente, ma bisogna pure dirlo questo. Una parte di tutto questo era nei disegni della P2, era scritto questo, lo sapevamo benissimo. Come abbiamo potuto affidare un desserato della P2 la qualità di primo ministro? E come abbiamo potuto far finta di credere che non sarebbe accaduto quello che sta accadendo? Allora se vogliamo avere una speranza, bisogna pure che queste cose le ammettiamo, cioè il potere sta estendendosi in un modo che lo rende sempre più unico, unito, e accetta sempre meno la dialettica istituzionale che è nella Costituzione, nel nostro desiderio, è nella Costituzione. Per un altro verso, esperienze storiche recenti che ci dicono che ci sono associazioni occulte, diceva la Commissione parlamentare, oscure e corruttrici della P2, che si sovrappongono ai poteri legittimi dello Stato. Ultimo, ma non ultimo nell'importanza, ci sono uomini che rappresentano direttamente, fisicamente, perché vi hanno appartenuto, queste associazioni oscure e corruttrici. Noi, perché poi siamo noi l'ultima istanza, e alla fine questa sera dobbiamo pure dirci che ci sono leggi, c'è la Costituzione, ma se qualcuno tocca la legge, se qualcuno tocca la Costituzione, che pure è la pietra miliare più solida di queste pietre che ci circondano, ma è modificabile, prevede se stessa di poter essere modificata, l'ultima pietra, siamo noi la pietra angolare ultima ed effettiva. Allora credo che queste cose dobbiamo intanto ricordarle. E se vogliamo avere speranza, avere il coraggio di ammettere che abbiamo molto accettato, molto tollerato e anche molto elogiato, la demagogia, l'arroganza e la negazione della struttura della Costituzione. E qui è innocente. Grazie. 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 Grazie.